Non è giusto, mi asco una volta ogni minuto di razza, ma è bene come al solito, mi vengo tranquillo, anche di giù, anche di giù, in bocca al lupo. Ecco, questo è il tavolo finale, vedete il trofeo, il primo e il secondo posto, quello che avete appena sentito era il chip leader di giornata che ha rilasciato questa intervista, vedete tutta la costruzione, ora andiamo a seguire anche quest'altra intervista. Tavolo finale di questa, la prima tappa del Power Poker Celtici, Chiarioni, Daniel, Speck, quindi sei il secondo chip leader del tavolo, secondo chip leader sensazione. Bene, ragazzi, ora vi do l'appuntamento all'inizio. dei giochi, ci risentiamo tra poco, seguitici durante tutto il pomeriggio con il blog live qui su PIV della Power Poker Championship.